Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale. Oggi parliamo di una giacca chiamata, io l'ho chiamata giacca primavera, giacca primavera perché? Perché penso che sia un capo molto utile proprio per questo periodo di transizione tra l'inverno appunto che ormai è quasi alle porte e la primavera che sta arrivando. Giacca cardigan come preferite e adesso vi spiego il lavoro, vedete che io nelle maniche ho riportato il colore del colletto. È costruita in un unico pezzo, infatti le uniche cuciture sono qui sopra da fare e diciamo ha una lavorazione molto facile. Il punto è bello, a me è piaciuto molto, io l'avevo visto come punto con un filato molto sottile traforato, invece utilizzando appunto un filato in lana viene bella una lavorazione corposa. Ho rifinito tutto il perimetro della giacca con 5 giri di mezza maglia alta facendo attenzione agli angolini a mettere a creare appunto gli angoli costituiti da una mezza maglia alta, 2 catenelle e una mezza maglia alta. Procediamo però con ordine, vediamo un pochino se con un piccolo disegno riuscite a capire come ho costruito la giacca. Eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere. Questa è la costruzione della giacca, come vedete per il corpo della giacca io sono andata a realizzare un grande rettangolo. Cosa ho fatto? Ho preso la misura della mia circonferenza seno e ho tolto all'incirca 10 cm, vedete qua lo noterete poi, 10 cm, ok? Che saranno tolti dai due lati, diciamo dai due pezzi davanti, dai due pezzi davanti. Perché? Perché io non volevo una giacca che fosse troppo chiusa, ma appunto volevo tipo un giacchino di quelli scianellini, non troppo lunghi, infatti questo più o meno va all'altezza vita, da poter indossare appunto su bluse, camicie, proprio come quel capo in più utile in questo periodo. Quindi una giacca non molto pesante, non molto chiusa, ma quel tocco di caldo in più che ogni tanto serve. Allora, cosa ho fatto? Quindi sono andata a prendere la mia circonferenza, ho tolto 10 cm e ho iniziato la mia lavorazione. Adesso vi faccio un piccolo campione della lavorazione. Il mio punto di lavorazione si basa su un multiplo di quattro e il lavoro lo si costruisce in due giri, uno di andata e l'altro di ritorno. Allora, quando noi dobbiamo fare delle lavorazioni così lunghe, sicuramente un pochino ci può scappare la numerazione delle catenelle. Quindi cosa vi consiglio? Cioè di creare la vostra catenella sufficientemente lunga senza tener conto del numero delle catenelle stesse, perché effettivamente avendo un multiplo di quattro, il nostro lavoro è abbastanza semplice da poter riaggiustare, riaggiustare, cioè nel senso che se mi avanzano al fondo 3 catenelle, poco importa, alla fine del mio lavoro, magari taglierò il filo se ne ho lasciato molto, vedrete che una volta tagliato il primo punto della catenella e attinerato il filo, la catenella si chiuderà in automatico. Allora, diciamo che io ho montato un sufficiente numero di catenelle proprio per, appunto, per contornare il mio, il mio, diciamo la mia circonferenza, a parto alla lavorazione del mio, del mio punto fantasia. Aggiungo una catenella per salire, vado nel primo punto della catenella, faccio una maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto una catenella e nell'altra vado a montare tre maglie alte, una, due e tre, ok? Poi salto una catenella nella successiva maglia bassa, ok? Questi sono i due motivi da ripetere lungo questo, questo giro, salto uno, tre maglie alte, io lo sto facendo in senape perché effettivamente con un colore molto più scuro, non è così semplice, poi individuare i punti e mostrarveli, salto uno, vado qui, maglia bassa, continuo, una di salto, tre gruppetti da tre, uno, due e tre, poi ancora facciamone qualcuno, uno, salto e vado qui, poi uno, salto, tre maglie alte, spero che riusciate a vedere, uno, due, tre, salto, vado qui, altra maglia bassa, salto, vado qui, gruppetto di tre maglie alte, ok? la lavorazione del primo giro è abbastanza meccanica e questa in realtà va bene, uno, e salto, diciamo che sono quasi arrivata al fondo, conto un attimo le mie catenelle, se qua faccio il gruppetto, sì, si può fare, salto, tre maglie alte, due e tre, e poi salto ancora uno di base e qui chiudo, ok? vedete bene o male, cioè io sono arrivata giusta, ma come vi ho detto prima, se io avessi avuto delle difficoltà nell'organizzarmi con il numero di catenelle, poco importa, avrei tagliato al fondo, adesso per girare secondo e fare il secondo giro, mi alzo con 3 catenelle, perché qui si diversificherà la lavorazione, prendo di nuovo il filo, rientro qua e faccio in pratica i lati di questo secondo giro sono costituiti da 3 catenelle e una maglia alta, vado nel gruppetto delle tre maglie alte al centro, faccio una maglia bassa, filo sull'uncinetto, sulla maglia bassa del giro precedente vado a creare un punto v, ok? poi di nuovo prima si salta nella seconda delle tre maglia bassa, poi vado qui punto v lo chiudo, poi salto questo e vado da questa parte, ok? punto v, maglia alta, catenella, maglia alta, la successione dei giri, proprio questa, adesso vi faccio vedere come si rimonta il terzo giro, poi cosa faccio, salto questo, qui mi pongo, metto una maglia bassa, vado qui, punto v, maglia alta, catenella, maglia alta, salto questo, maglia bassa, centro, punto v, ok? sulle maglie basse, quindi costruisco il mio punto v, sul gruppo di 3, una maglia bassa, finisco come abbiamo detto all'inizio con due maglie alte nella maglia bassa del giro precedente, allora un attimo che ok perfetto, 1 e 2, allora una volta avuto anche completo il secondo lavoro, in pratica la lavorazione da ripetere sono proprio questi due numeri, devo essere sincera che con la lana diciamo viene abbastanza in rilievo la lavorazione, quindi un pochino l'occhio si deve abituare, anch'io francamente ho fatto qualche difficoltà per poter realizzare appunto la lavorazione, allora in questo momento mi mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro all'interno del della maglia alta faccio una maglia bassa, poi cosa faccio prendo il filo entro nella maglia bassa e faccio un punto v ok no scusatemi sono distratta un attimo non ho detto una sciocchezza qui si fanno i 33 maglie alte scusate ma un attimo di distrazione 3 maglie alte su il punto v una catena una maglia bassa quindi dovete c'è la maglia bassa vado a ricostruirmi le 3 maglie alte ok in questo modo invece all'interno del punto v vado a mettere una maglia bassa risalto 3 maglie alte nella maglia bassa del giro precedente penso che stiate guardando bene e stiate guardando bene e vado nel punto v maglia bassa riprendo la stessa cosa quindi sulle maglie basse vado a costruirmi tre maglie alte invece dove nel giro precedente dove c'era il punto v maglia bassa quindi qui tre maglie alte nel punto v maglia bassa ok ancora l'ultimo vi faccio vedere come girare per il quarto giro una due e tre quindi cosa succede i numeri dispari sono tutti uguali i numeri delle righe dispari quelle pari allo stesso modo chiudo con una maglia bassa mi alzo di 3 catenelle qui devo andare iniziare come secondo giro quindi qui maglia alta poi qui maglia bassa qui vado a crearmi punto v quindi si in pratica non si fa altro che ripetere questi due giri di lavorazione ok questo è campione del motivo fantasia che ho utilizzato per la mia giacca arrivati all'incirca a 42 centimetri di altezza cosa ho fatto sono andata a riprendermi la misura delle spalle e le ho messe in pratica questa misura è questa cioè cosa ho fatto piegato il mio pannello in due e ho messo marca punti qui e qui ho preso metà della mia larghezza delle spalle da un lato metà larghezza dall'altro quindi questo pezzo qui adesso pasticcio un po ma pazienza rappresenta la l'ampiezza delle spalle invece come vedete per quanto riguarda i due pannelli del davanti sono leggermente più piccoli perché la mia intenzione era proprio questa cioè una volta piegati non volevo che si andassero completamente a sovrapporre infatti una volta che noi andiamo a piegarli arriveranno a questo punto quindi avremo questo spazio più o meno come vi ho fatto vedere nel mio di 10 centimetri che rappresentano l'apertura adesso ve lo faccio vedere come ho cucito allora io da premettere che non amo cucire perché non lo so le parti pannelli ad uncinetto non li sopporto perché mi sembra sempre che sfuggano cosa ho fatto ho individuato la parte interna del mio lavoro e quando sono andata a costruirmi tutti e tre i pannelli li ho cuciti con delle maglie bassissime qui in alto vedete qui ho fatto si vede anche bene la mia cucitura di maglia bassissima dall'interno della lavorazione perché non devo che non voglio che si veda da una parte e dall'altra quindi a questo punto il mio lavoro per quanto riguarda il corpo del della giacca è completo poi in un secondo momento sono andata a costruirmi le maniche cosa ho fatto ho bordato la lavorazione dei due pannelli con della manica con delle maglie basse e poi ho fatto in modo di avere il mio multiplo di 4 e ho lavorato lo stesso tipo di lavorazione sulla manica qui però non vado a ci vediamo trappora quindi una volta cucite le mie spalle sono andata a prendere l'apertura della manica ho bordato con un giro di maglie basse sono andata a costruirmi la manica e ho fatto giro di andate di ritorno cioè cosa ho fatto un giro il primo giro l'ho lavorato sul dritto del lavoro nel secondo giro non ho proseguito ad in forma spirale ma sono tornata indietro quindi avevo la sensazione di lavorare dalla parte interna del lavoro questo perché perché se no se io vado a lavorare in modo concentrico la lavorazione motivo non si vedrebbe quindi è molto importante questo va tenuto a mente che la manica va lavorata una volta da un verso il primo giro da un verso il secondo dall'altro e così via la mia manichina ea tre quarti proprio perché io l'ho chiamata giacca primavera perché non volevo una giacca pesantissima invernale volevo quel capo in più da utilizzare appunto in questo periodo non ho aggiunto né bottoni né chiusure proprio perché l'ho lasciata aperta in caso voleste creare un vero e proprio giaccone una giacca più chiusa basta invece di togliere i centimetri metterli tutti la parte davanti e la parte dietro la manichina lo bordata con questo con color sena per me piaceva moltissimo e quindi poi sono andata tutto a di passarmi il perimetro della giacca con delle maglie mezze maglie alte spero che questo progetto vi sia piaciuto la è molto versatile potremmo fare anche un cardigan lungo in questo modo un cappottino quello che più vi piace io avendo notato che è un diciamo una lavorazione bella compatto preferito fare tipo una giacchina diciamo un po alla lunghezza delle chanel non molto non molto ingombrante come lavoro allora resto solo col dirvi che se vi è piaciuto il mio lavoro iscrivetevi al canale e vi aspetto per nuove proposte buona giornata da uncinetti allo sbaraglio